Il mio nome è Jan Vaspi, ho l'azienda Fattoria Villa Spojano a Barberino Tavanelli. Io sono il titolare dell'azienda e faccio il tutto fare. Mi sono ingrandito parecchio perché in Svizzera c'avevo un piccolo terreno con un po' di vigna e ora qui mi trovo con una bella azienda e c'è una bella differenza. Allora, questo vino è un Chianti Classico delle Querciole. Le Querciole vengono da Quercia, quindi la Quercia è un albero forte come anche il vino. Il terreno che ho qui alle Querciole è molto variato perché comincia con una pietra forte in cima, scende verso un galestro e sotto finisce con argilliti. La più grande soddisfazione è quando si realizza l'azienda e si riesce a portarlo avanti anche con i figli tutti in famiglia.